iniziamo e iniziamo iniziamo buongiorno amici benvenuti martedì e si sono elaborate le previsioni dell'otto in automatico si sono realizzate con tutti i calcolatori le previsioni l'otto e come promesso oggi vi vado a far vedere una delle migliori previsioni che abbiamo realizzato ok oggi abbiamo realizzato la previsione con la tavola settemaria con il calcolatore della settembre che ha dato andiamo a vedere adesso una quaderna su bari ok ma una bella quaderna ottima quaderna quindi come non possiamo analizzare questo calcolatore è così forte infatti vi vado a far vedere sia la previsione vecchia con il metodo del 68 la previsione pubblica che ancora in corso e si ho preparato una nuova andiamo a far vedere la quaderna che uscita a bari eccola qua bella è 8 82 che era una base matematica 22 12 addirittura è uscito anche il 62 tutto in cadenza 2 quindi spettacolare questa quartina davvero bella spettacolare devo dire in parte era generata dal calcolatore della settenaria che ve lo faccio vedere subito prima di far vedere la previsione preparata vi faccio vedere un po come i numeri venivano fuori allora prendiamo il calcolatore settenario eccolo qua vi ingrandisco lo schermo eccolo questo è un calcolatore basato su un libro scritto sulla base della tavola settenario ok sono tre formule messe in automatico un calcolatore che cosa faceva questo calcolatore al 19 aprile guardate al calcolo del 19 quindi estrazione dell'ultimo di sabato calcolando 19 aprile no il 18 aprile quindi venerdì il calcolo di venerdì per il sabato per il sabato appunto quando ci sarà guaderma ecco qua allora bari cagliari portava a questo qui il numero già il numero giallo il numero più forte del calcolatore ok portava 22 combinamenti 28 82 vedete qui un po tutti ok bari cagliari proprio detto in un post un altro giorno attenzione ai collegamenti tra le ruote i collegamenti tra le ruote sono sempre diametrali coppiati di bari cagliari bari napoli bari vado a napoli cagliari palermo andiamo a vedere che cosa apportava bari napoli quindi troppi numeri non ci interessano cagliari palermo troppi numeri ok quindi va bene l'estrazione eccessiva guardate nel calcolo che a 18 da giovedì 19 giustamente venerdì eccolo ricalcolando bari cagliari c'era 9 90 ok che questa sera vi do attenzione a questo 90 però guardate si ripeteva 82 28 21 del calcolo scorso c'era 28 82 anche qui c'è ancora si ripeteva vedete questa ripetizione di questo numero è molto importante quando ho visto ho fatto cavolo c'avevamo 72 occhio a questo 72 27 che è uscito a cagliari attenzione 21 e guardate allora calcolo che capitoliamo del 18 aprile bari cagliari ecco qui calcolo guardate 22 che porta a 12 21 come abbinamento questo uscito 39 a colpo questa è la bomba più potente che esiste è uscita poi c'è 28 82 perché vado qui perché si ripeteva ok perfetto poi vado al calcolo del 19 ok e si ripeteva ancora eccolo qua si ripeteva il 21 ok adesso andando a incrociare un po perché l'incrocio che lo faccio sempre con bari napoli cagliari palermo se sono pochi numeri li prendo se sono troppi numeri no normale questo qui è il calcolatore che li calcola quindi io vado a vedere solo ci sono convergenze e infatti bari napoli c'era 29 che porta 28 82 divertibile quindi si ripeteva 8 80 che potrebbe essere un meno a 82 8 sono complementi 90 infatti c'era 72 ancora c'era anche su 27 si ripete quindi come vedete stavo vedendo solo ripetizioni adesso attenzione che si ripete 90 però attenzione ci arriviamo cagliari palermo guardate bam adesso si ripete questo va bene morale della favola c'era un 8 che si ripeteva anche questo serve 18 81 ma per oggi non esce come si ripeteva 28 82 ok 8 80 22 12 anche qui ancora 22 12 morale della favola lo sappiamo tutti tutti quanti quando ho visto i numeri che si ripetevano perché vi dico questo è che ho ottenuto una lezione proprio venerdì mattina sul calcolatore della settenaria bari cagliari 8 22 82 12 cioè erano i numeri ripetuti 28 82 8 80 12 22 citi precisi perfetti e questo calcolo veniva precisamente da questa settenaria bellissimo ok quindi oggi ho realizzato per voi una bella previsione gratuita che andiamo a vedere quindi ho analizzato tutte le convergenze quindi questo calcolatore adesso faccio rivedere è ad uso esclusivo di chi ha lo scritto quindi sto facendo vedere che potenza ha però quando genera troppi numeri si vanno a prendere ripetuti non è che si giocano tutti i numeri altrimenti è così guardate che succede calcolo del 19 al 20 aprile quindi al calcolo dell'estrazione di sabato l'ultima calcolando qui abbiamo guardate un 34 18 81 che torna si ripete 43 34 quindi non sto guardando altro andiamo a vedere le convergenze bari napoli convergenze 34 43 ancora vedere si ripete ok cagliari palermo 13 31 38 83 si ripete un po tutto attenzione attenzione guardate calcolo quindi io prendete calcolo prima e dopo l'ultima distrazione mele calcolo 19 ancora calcolo 9 90 abbiamo detto bello che ci abbiamo fatto una lezione venerdì e questo 9 90 guardate lo ripete anche firenze genova perché importante perché qui è la ruota di giù vari cagliari firenze cagliari firenze comunque sono legate cagliari e consecutiva firenze sono legate calcoli e questa sera inizio a vedere il 90 quindi qui vedete vi ripeto c'era 82 28 72 andato a cagliari ok 21 27 72 andato a cagliari 21 12 22 andato bari andiamo avanti andiamo a vedere il legamento torino venezia anche venezia è la opposta di bar c'è questo 90 tutte le parti ancora bari napoli 18 81 pericoloso 90 ecco qui i numeri gialli sono più forti quindi non li prendo tutti non mi servono tutti prende 90 cagliari palermo guardate la convergenza che mi interessa con cagliari c'è 9 90 quindi signori previsione che ho preparato sperando che che sia quella giusta ho fatto solo dei calcoli così con il calcolatore non ho fatto altri controlli potrei fare ho fatto le mie dice ho preso le decisioni sulla base dei calcoli in due minuti perché il calcolatore della scenaria è già potente siete pronti è già potente e quindi ho deciso di darvi questa anzi non qui aspettate che non devo condividerla qui ce l'ho già pronta da quest'altra parte eccola qua un attimo ve lo faccio vedere bella piena eccola qua o allora previsione gratuita la sette maria 90 il rosso di lambata principale il 90 attenzione a bari cagliari diciamo firenze ci aggiungiamo come quartina poi abbiamo 9 90 34 35 13 i numeri più ripetuti non ho messo diciamo tutto se volete mettetelo sono uno due tre quattro cinque sei numeri sette numeri per per quaderno naturalmente cinque 18 81 comunque abbiamo 9 90 34 35 13 secco il bollettino da 5 metterici poco e davanti bari cagliari firenze si vince ho scritto applichiamo uno sconto su un metodo basato sulla tavola quindi io se vi farò vincere questa previsione vediamo che succede stasera domani al prossimo corso vi darò un buono sconto su un metodo potente su questa tavola perché è una tavola favolosa che quando ci andate a studiarla dice immergete trovate delle soluzioni pazzesche poi abbiamo quindi questa è una previsione gratuita per tutti poi abbiamo intanto vi faccio scorrere il nostro numero in basso perché se volete previsioni singole personalizzate per voi le potete chiedere su whatsapp intanto abbiamo e non ci dimentichiamo quest'altra che ancora valida con il mezzo del 68 che fa paura un altro mezzo bomba eccola qui non vi dimenticate firenze attenzione firenze potrebbe andare anche a roma diametrale 68 12 21 ok metodo delle distanze ok ne parleremo signori di questo mezzo questa settimana stiamo realizzando una serata per parlare delle metodologie 68 quindi se sei un socio è la nostra testa se sei il nostro abbonato se il nostro partecipante potrai vedere questi video che organizzerò una serie di queste per la comunicato prima ok attenzione 68 seconda terza posizione chi vuole fare quest'altra bolletta con il 12 21 c'è chi farà sicuramente 68 12 21 86 la quartina per ambo qui se ci scappa interno siamo forti davvero che il mezzo è fortissimo anche questo qui quindi sette nari da parte e 68 all'altra e cosa vorrei dirvi per fare tutto questo se volete vi rinnovo una andiamo a trovarlo vi rinnovo una cosa molto importante trovarlo vi rinnovo per giocare queste eccolo qua allora per giocare questa roba potete fare anche così guardate cosa ho preparato per voi ho preparato eccolo qua un attimo solo che ve lo faccio vedere è una un bonus spettacolare che può servirvi per giocare gratis perché consiglio tecnico ve lo voglio dare guardate eccolo qua allora con il nostro link di sport bet sull'8 e 10 lotto si possono avere 50 euro da giocare all'8 18 quindi scriveteci numero basso su whatsapp perché vi facciamo dare questo bonus ok per i nuovi registrati per i vecchi registrati hanno altri bonus quindi molto importante perché si può giocare come funziona il bonus una volta su diversi tipi di bonus c'è un bonus che diamo direttamente senza deposito quindi senza dover depositare nulla voi giocate gratis proprio giocate gratis e altri bonus dove bisogna depositare un minimo sul conto quindi comunque conviene sempre perché giocare alla fine se si va a giocare normalmente nessuno mi regala nulla quindi se volete scriveteci su whatsapp e vi diamo anche questi a queste attivazioni e vi spiegheremo come funzionano tutti i bonus che escono in settimana ok quindi in bocca al lupo fino a 50 euro gratis qui previsione pronta rifacciamo vedere la settenaria bellissima eccola qua è l'epoca del 90? sì adesso arriva signori ce lo dice la settenaria ok 90 posizione per chi per chi vuole fare l'ambata attenzione alla quarta e la quinta vari cagliari ad una due ruote vi do non vi do una precisa però cagliari si ripete quindi più cagliari e la quartina o il 1881 lo dico a voce da aggiungere per sorti superiore ok se volete sapere di più su questi metodi c'è l'accademia signori scriveteci perché tutto questo viene spiegato in dettaglio nei video ciao a tutti buona giornata speriamo di fare